benvenuti a questa proiezione di after hours di un film che mi fa molto piacere presentarvi perché il regista e oso chiamarlo un amico del festival è la quarta volta che è qui con noi spero di ricordarmeli in ordine cronologico dopo The Tracy Fragments nel 2007, Pontypool nel 2008 e This Movie is Broken nel 2010 è membro della giuria del concorso internazionale quest'anno e quindi credo davvero sia un amico del Torino Film Festival è un regista canadese e si chiama Bruce MacDonald grazie mille prego allora ci vuoi introdurre questo film che è un film molto bizzarro è un noir o un neo noir però molto stravagante c'è un attore che interpreta due ruoli c'è Henry Rollins c'è Juliette Lewis insomma due parole di introduzione Bruce What can I say? I will say first what a pleasure it is to be here in Torino I'm from Toronto Toronto Torino 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 Toronto we're cousins I think this is a movie that I guess imagines what it's like to be inside the mind of a heroin addicted trumpet player that's all you really need to know allora cosa posso dire per presentarvi questo film intanto posso già dire che è un grandissimo piacere essere qui con voi a Torino io provengo da Toronto Toronto Torino Toronto Torino possiamo dire che siamo cugini e a questo punto invece per presentarvi il film di questa sera posso dirvi che in questo film andiamo ad immaginare quello che si trova nella mente di un trombettista eroinomane senti ma giusto una cosa ma quanto ti sei divertito a girare questo film perché si nota il divertimento ed è contagioso anche un po' e se cosa stessa well that's good I mean I think the energy behind the camera is as important as the energy in front and we had a kind of a mad team that all kind of embraced the name of the movie Dreamland our costume designer our director of photography you know everybody kind of embraced the idea of a dream and tried to go there Ebbene, questo mi fa davvero piacere e se si nota che ci siamo divertiti è perché c'era una grandissima energia nel realizzare questo film sia dietro alla macchina da presa che davanti alla macchina da presa ed è stata una squadra di folli, di pazzoidi che si è messa insieme a collaborare per realizzare questo film che è proprio ambientato in una terra onirica e tutti quanti hanno pensato di abbracciare quindi questo mondo di soldi dalla costumista fino al direttore della fotografia. Va bene, allora grazie Bruce e buona visione Dreamland. Enjoy, buonasera. Grazie